Salve a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Binding of Isaac Rebirth Allora, siamo nel livello quello lì con scritto comeback ragazzi Quello che mi avete consigliato voi, quindi io lo porterò a termine col comeback Quindi con il ritorno ogni volta che vai nella stanza precedente ritornano tutti i mostri Che palle Va bene, andiamo a vedere cosa riusciamo a fare in questa nuova puntata, in questo nuovo livello Scendiamo giù di piano Ok Allora, vediamo un po' cosa ci capita Lì c'è una boss battle Vediamo un po' Oh, brutto barbone Cosa brutto? Che non sei altro Oh, mori facile però eh Mi dicono che mori facile Oh Cazzo Aiuto No Chi è questo? No, mi ha preso Dai diavolo Di un cagnolino Ci sei morto Ok Oh, altri Brutti nemici Tanti brutti Uh L'ho lisciato pieno Proprio pieno l'ho lisciato Oh, cazzozza Tiè, piate questo Qualcos'altro? Ok Chiave Molto gentili Allora io vado giù Ok Ma non ci devo rientrare più in quella stanza Se ci rientro si riforma Tiè Guarda che velocità Allora, devo andare in giù Sì, vado qui Ha 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 Che presa in giro Che presa in giro Io ci posso passare Oh no, li sono ritornati Oh monetina Arca Cazzozza Fatto ciocca Eh, qua non c'è niente Ah Dai Non è giusto Questa cosa Guarda che muovi Frego io Basta Vado su Ok Oh Oh Quanto corri Tiè fregate Tanto sto sui sassi Tu non puoi passarci Ok Questo l'elimino Via Non mi hanno dato niente Ammazza Tirchi Tirchi Motori Ammazza qua Ok Suzza Fate vedami Beccolo Allora Rindiamo per di qua Ok Qui non c'era nulla Sti massi Mi intrigano Mmm Vediamo un po' Eeeh Eeeh Boni 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 Dai 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 Qua Qui c'è Mori Qui c'è Mori Lì c'è Mori pure tu Tiè Tiè Easy peasy Ok Eeeh Qui sotto c'è un potenziamento che si accede con la chiave Andiamo un po' Damage e resistance Siamo resistenti ai danni E come funziona? Ci fanno meno danni quando ci colpiscono? Oppure per una volta ogni tot non ce li fanno? Non saprei proprio che dire Sarebbe molto comodo se siamo resistenti davvero ai danni non è vero Non siamo resistenti a niente qua Allora Eeeh Tredici Ok Non c'ho chiavi Ok Ui Presi due Le piaceva scappare eh Dove stai? Preso Ok La chiave là non la utilizziamo Perché non ce l'abbiamo Eeeh Questi ci muoiono male Chi è? Chi è? Eeeh Quello non l'ho preso Chi è? Chiave figa Ma che? Ah ma che ce la chiami? Venite Possibile? Viscio No Non mi sarà caricato Ok Vuoi provare a tornare indietro e aprire quella porta No No Non devo tornare indietro qua Ola Spiate questo Spiate questo Ah posso aprirla? Si c'è il chiave infinite raga Eeeh Questo lo voglio uccidere Grazie Damme due monetine Dammene Oh precise Manca un volello Idem martir Non so che fa Che farà l'Idem martir? Ah Sentire dolore come Come Isaac Oh che zozza Ok Andiamo di qua Eeeh Woman Piede questo E piede questo Presa al volo Ari eccoli un'altra volta Tanto c'è morite Ok Vado da su Uh Uh Ma Giù ci mori Urca zozza No Che ci è mancato Oh e dai Però piglielo Ah Preso Una bomba qua Perché qui ci sta un vaso Monetine Ok Andiamo di qui Eeeh Oh E che è Oh Ma guarda che roba Soldi Soldi I soldi Tanti soldi Per i prossimi livelli Possono far comodo Boss Mostro Eh Tu che vuoi fa? Eh mostro non è difficilissimo Me boss Che ci hanno messo pure i piccoletti Qua a rompere palle Ok Ok vieni qui Uh Che mulli Salta sulla testa Maledetto Non mi salterai sulla testa così facilmente Oh Che zozza No Dove sei? Dove sei? Eccolo Yeah Via te sti danni Morto Mostro è facile da ammazzare Porta brutta Questo che è? Damage più range up Vabbè questo range up non lo fa se non erro Sì Tre cuori per la palla Per andare a livello dopo Non ce l'ho tre cuori di quel tipo Che palle Sti bonus Fighi fighi che costano troppo No 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 Ciao No lo devo rifà No non è giusto No e mo ci muoio guarda Stai a vedere Prima tutto figo fai Che mo ci muoio con un mostro Guarda Guarda Oh No 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 Mostro ammazzo prima E poi pensa a quel moscerino a ligio Perché tu sei Rompi Palle Questi saltelli Però te faccio più danno Ah Ok E l'ho riucciso per due volte Doppio mostro ragazzi Doppio mostro Va bene ragazzi Questa era una nuova puntata di Binding of Isaac Rabbids Siamo riusciti a sopravvivere Stranamente a un altro livello Abbiamo dovuto affrontare due volte Monstro Abbiamo fatto un pochino di soldini Per fortuna E abbiamo preso diversi potenziamenti Tra cui la resistenza al danno Che non so bene come funzioni E il martire Che è quello che abbiamo addosso E un po' di danni Il range up Che però il range up Non aumenta con lui Perché rimane sempre lo stesso Va bene ragazzi Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale se siete nuovi E ci vediamo alla prossima puntata di Binding of Isaac Rabbids E ci vediamo alla prossima puntata di